Decisamente non è un buon momento per l'immagine della provincia di Bolzano in Italia. Non bastasse il polverone sul doppio passaporto, è arrivato il clamore sulla stretta sulle seconde case. Nel resto d'Italia è stata interpretata come una chiusura a chi viene da fuori, in nome della Heimat e dell'identità suttirolese. Tanto che il presidente Compatcher si è visto costretto a precisare che la norma in realtà vuole limitare il consumo di suolo e permettere a chi vive nei centri turistici di comprare casa senza spendere cifre esorbitanti. Il divieto di acquisto da parte dei turisti, ha ricordato Compatcher, riguarda solo gli alloggi di nuova costruzione. Tra i proprietari di seconde case si era diffuso un allarme ingiustificato. Mi hanno chiamato in tanti perché volevano sapere cosa diavolo stava succedendo. In realtà quelli che hanno acquistato devono stare tranquilli perché quello che hanno acquistato rimarrà libero per sempre, come attualmente, e potranno venderlo a chiunque perché la loro preoccupazione era proprio questa, quella di dire dobbiamo per forza vendere ai residenti e questo non è vero. Costruttori e agenti immobiliari protestano, così dicono si ingessa il libero mercato. Sicuramente nei prossimi anni avendo uno stock inferiore di immobili avremo meno oggetti da vendere. L'altra parte però questo creerà inevitabilmente anche un aumento dei prezzi degli appartamenti liberi. Questo sicuramente avvantaggia anche gli albergatori che chiaramente si troveranno ad avere dei potenziali clienti in più.